Leonardo Impegno è parlamentare del Partito Democratico, fa parte della Commissione Attività Produttive. Occupiamoci della riforma dell'RC Auto, capitolo del quale lei si sta impegnando in prima persona. Ci dice che cosa prevede questa riforma, quali risparmi e che cosa si può fare perché tutti paghino l'assicurazione in Italia. Il Governo ci sta lavorando, in termini di risparmio ci sarà la scatola nera, ci sarà la convenzione con i carrozzieri, ma il tema molto rilevante al quale stiamo lavorando alcuni deputati, abbiamo presentato una proposta di legge riguardo all'abbattimento dei premi assicurativi e delle tariffe soprattutto in alcune regioni, in particolare nella città di Napoli e nelle regioni del Mezzogiorno, perché c'è una disparità ormai inaccettabile, un divario enorme che va colmato, perché non è pensabile che un cittadino onesto per bene, virtuoso del Sud paghi di più, nonostante lo sia appunto onesto per bene e virtuoso rispetto ad altri cittadini del nostro paese. Il problema però riguarda l'intera nazione, perché l'Italia paga molto di più rispetto alla Germania, alla Francia, alla Germania e le frodi, le truffe e i finti sinistri vengono scoperti sempre meno dalle nostre parti e sempre più dalle altre nazioni che compongono l'Europa. Quindi bisogna intervenire, lo faremo nel prossimo decreto, spero in maniera decisiva e determinante per i cittadini che pagano un prezzo ormai insostenibile. Questo secondo lei potrà portare tutti a pagare l'assicurazione in modo adeguato? Spero che questo avvenga, anche perché noi abbiamo un compito, che è quello di recuperare ad esempio tutte le auto che non hanno l'assicurazione e sono stimate circa 4 milioni di auto e queste ricadono sulle spalle dei cittadini costretti a pagare dei premi eccessivi. Tra l'altro anche le compagnie dovrebbero fare uno sforzo in più, perché in piena crisi economica e finanziaria hanno guadagnato un bel po'. C'è un bilancio di 18 miliardi di euro, un utile d'esercizio di bilancio di due, quindi un po' di soldini per far risparmiare i cittadini ci sono e noi proveremo a trovarli in modo tale da consentire a un cittadino di non pagare, nonostante sia in prima classe, 1.000-1.500 euro. Impegno, grazie, buon lavoro. Grazie a voi.